Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva la cultura e la carta del merito. Fino a mille euro ai giovani. Misure che consentono di ottenere, mi consenta, diceva il mitico, mi consentono di ottenere fino a mille euro. Utilizzati entro il 31 decembre dell'anno di registrazione, dell'anno sdomini di registrazione. E' il bonus cultura per i giovani è cambiato. La misura è stata sostituita da due nuove carte, la carta cultura e la carta del merito. 500 euro con la carta del merito, 500 euro con la carta della cultura. Bene. Disponibili dai primi di febbraio. Lo sapevate? In pochi lo sapevano. Perché queste cose non vengono fortemente pubblicizzate? Perché meno persone ne usufruiscono, meglio è. Io lo faccio. Lo racconto. Poi non dico più niente sperando che in pochi utilizzino questi soldi, così mi tengo i soldi e faccio un'altra cosa. Capito, no? Bene. Allora, parliamo di questi due contributi. Si possono richiedere entro il 30 giugno. Lo sapevate? Io che parlo di politica dalla mattina alla sera, di sta notizia forse l'hanno data a gennaio e poi mai più. Quindi entro il 30 giugno. I requisiti necessari. Vediamo un po'. Con la carta cultura giovani, 500 euro, carta elettronica. Devi essere residente in Italia e se stranieri è richiesto il regolare permesso di soggiorno. Tra i requisiti. Avere 18 anni. Nel 2024 quindi ne beneficeranno i nati nel 2005. La misura viene assegnata solo ai neomaggiorenni che appartengono a un nucleo familiare con Isee che non va oltre i 35.000 euro. Per ottenere quindi la misura è necessario avere richiesto il nuovo Isee 2024. Cosa puoi comprare? Biglietti per spettacoli teatrali, cinema e dal vivo. Libri, abbonamenti e quotidiani ai periodici, anche in formato digitale. Moseca, musica. Prodotti dell'editoria audiovisiva, biglietti per musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali. Corsi di musica, corsi di teatro, corsi di danza. Un, deux, trois, quatre, le duple, voilà. E poi corsi di lingue straniere. Non si possono invece comprare videogiochi. Mannaggia, la Schlein sarà... sapete che lei dice di essere una gamer, una giocatrice di videogiochi. Non si possono comprare videocorsi diversi da quelli di musica. Teatro, danza, un, deux, trois, quatre, lingua straniere e abbonamenti per l'accesso alle piattaforme streaming. Allora, i 500 euro devono essere utilizzati entro il 31 dicembre, se no le somme vanno perse. Si possono nella piattaforma generare buoni spese, inserendo i dati richiesti. Questi buoni possono essere utilizzati presso esercenti autorizzati esclusivamente per gli acquisti consentiti elencati sopra. Il buono che può essere stampato deve essere utilizzato solo dal titolare della carta. Solo quando il buono generato viene effettivamente speso, l'importo disponibile nel portafoglio elettronico verrà aggiornato. E poi c'è la carta del merito. Me lo merito merito io, diceva una pubblicità. La carta del merito destinata agli studenti che hanno ottenuto il punteggio massimo, 100 su 100. Io non avrei potuto accedere alla carta del merito, forse è quella del demerito. Quindi 100 centesimi all'esame di maturità. È una novità riservata esclusivamente ai nati nel 2005. Anche questa carta ha un valore massimo di 500 euro e permette di effettuare gli stessi tipi di acquisti previsti per la carta cultura giovani, quindi biglietti per spettacoli teatrali, cinema dal vivo, libri, abbonamenti, quelli che vi dicevo prima. A questo punto le due carte si chiamano diversamente, ma una la puoi avere solo se hai preso 100 centesimi, quindi si riduce veramente a poche persone che devono anche poi sapere dell'esistenza di questa cosa. Mentre l'altra devi avere compiuto 18 anni, avere in famiglia un reddito non superiore a 35.000 euro lordi, quindi vuol dire che in famiglia non devono entrare, guardate, non più di 2.000 euro netti al mese. Quindi se due persone lavorano non più di 1.000 euro al mese, o se una persona lavora sola non più di 2.000 euro netti, più o meno. Quindi se avete due genitori che lavorano e prendono 1.500 e 1.500 netto al mese, siete tagliati fuori, perché supera quei 35.000 euro all'anno. A questo punto se uno ha 18 anni ha questi requisiti è meglio andare a prendersela, si compra dei libri, si compra dei corsi di lingue, può andare al cinema, ecco se li può utilizzare tutti al cinema, andare tutti i giorni al cinema, perché dice proprio biglietti per spettacoli teatrali o cinematografici e dal vivo. Quindi biglietti di spettacoli dal vivo può essere anche, non lo so, Beppe Grillo che fa lo spettacolo, Scansi, quelli che mi vengono in mente. Ecco, quindi insomma, 500 euro al cinema ci entri un bel 50 volte, o di più, un 55-60 volte al cinema. Ci vai praticamente a vedere tutti i film da qua a dicembre. Insomma, diciamo che, però come vi dicevo all'inizio, pochi sanno di queste cose e quindi pochi poi ne usufruiscono, perché funziona così. Io dico, faccio, poi meno si spende, meglio è così quei soldi me li tengo io come governo e propongo un'altra cosa simile dopo quando è scaduta, con gli stessi soldi. Quindi purtroppo in Italia molte di queste cose non si sanno. Voi l'avete sentito parlare in qualche programma televisivo dedicato, allora se hai 18 anni vai a prendere, ricordati di andare a prendere questa carta. Invece no, non te lo dico così se non ti ricordi è meglio. Così i soldi rimangono allo Stato. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Buona giornata nuovamente e ricordatevi che i video si possono condividere, non scaricare e ricaricare a vostro nome per fare visualizzazioni, condividere. La condivisione non è scaricare il video e ricaricarlo. You understand? Però quelli che lo facevano li ho già bloccati tutti, bloccati nel senso che gli ho fatto arrivare le lettere da chi di dovere. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.